e siamo qui per una nuova stagione di questa trasmissione che sarà dedicata alla salute alla sanità al benessere siamo fuori dalla struttura di fisioradi a pesaro che è stata inaugurata la nuova struttura il 18 settembre nel quartiere di dismara vedete quanti nomi alle mie spalle considerate che in questa struttura convergono oltre 50 sanitari fra medici fisioterapisti e specialisti che sono dedicati a 360 gradi alla cura della persona il nostro primo appuntamento con Maurizio Radi che è il creatore di tutto ciò dà il nome a questa struttura avremo l'occasione di fare una bella chiacchierata con lui per capirne di più del suo percorso e di quali sono i suoi obiettivi davvero come operatore sanitario a 360 gradi siamo nello studio di Maurizio Radi nella nuova struttura di vismara una struttura straordinaria della quale adesso ci parlerà Maurizio Radi un percorso trentennale nel mondo della fisioterapia quindi dopo 30 anni la prima domanda che viene spontaneo farsi è ma oggi Maurizio Radi chi è? Maurizio Radi è sempre Maurizio Radi di 30 anni fa che ha iniziato la propria attività qui vicino insomma a 7-800 metri da dove siamo oggi Maurizio Radi è quello di 30 anni fa perché ancora in prima persona valuta il paziente tratta il paziente e quindi ancora oggi dopo 30 anni di lavoro e 30 anni di esperienza è qua che cerca di dare il massimo ai propri pazienti continuando con corsi di aggiornamento con corsi per migliorare prima se stesso e quindi per poter dare poi un servizio migliore ai propri pazienti e noi lo possiamo testimoniare perché qui di attestati di diplomi di corsi di aggiornamento ce ne sono tanti anche recentissimi hai detto una cosa giusta prendere si in carico la persona fisioterapia magari uno si può immaginare che sia una pratica riferita a un sintomo una cura particolare in una parte del corpo ma in realtà c'è anche tantissima comunicazione tantissima empatia perché la persona va riconosciuta e curata nell'insieme quello che dico sempre che noi prendiamo in carica un paziente ma il paziente lo dobbiamo valutare prima come persona cioè noi non dobbiamo considerare il paziente solo per la sua patologia ma noi dobbiamo essere capaci di ascoltare il paziente perché quello che dico sempre che se riusciamo ad ascoltare il paziente e riusciamo a capire quello che ci vuole comunicare il paziente già abbiamo fatto il 50 per cento della terapia fisioterapia può essere un termine in questo momento un po sminuito ma noi dobbiamo pensare di essere degli operatori sanitari dove mettiamo il nostro sapere verso la persona che abbiamo davanti quindi oltre a prenderci in carico quel paziente con quella patologia noi dobbiamo essere in grado poi di comunicare al paziente quello che lui dovrà fare non solo con noi anche con se stesso per cercare poi di stare bene oppure di mantenersi quando noi poi abbiamo risolto il problema sì anche perché poi ci troviamo qui in una struttura totalmente nuova rinnovata anzi proprio è un luogo che a pesano in questa zona della città vismara pochi passi da casa tua non c'era ma al di là proprio dell'aspetto professionale anche proprio da un punto di vista umano cosa significa per te questo passo questo questa possibilità di avere questa struttura che porta il tuo nome e che risolve i problemi delle persone ma questo come già detto in tante altre interviste sicuramente è la realizzazione di un bellissimo progetto partito da lontano ma soprattutto un sogno realizzato quando dici si sogna i sogni sono realizzabili alcune volte invece sogni possono essere realizzati ma per realizzare tutto questo naturalmente c'è stata una grande fatica un grande impegno partito forse più di due anni fa andando a cercare una struttura che potesse potesse essere consona per quello che avevo in testa prima ne abbiamo bagliato una poi un'altra poi ci sono stati anche dei problemi su alcune strutture da un punto di vista edilizio e poi un giorno come dici tu vicino a casa passo qui davanti vedo questo cartello che affittavano questa struttura e mi è aperto naturalmente il mondo una struttura che abbiamo avuto modo di visitare l'abbiamo proprio visionata e c'era stata proprio anche descritta no come effettivamente un luogo di cura un luogo dove le persone entrano e in un primo momento era stato detto che sopra il piano superiore era il cervello di questa di fisioradi noi ci siamo il cuore scusate io io mi sono sentito di dire no secondo me il cervello perché mi risulta che al primo piano ci sia una persona molto importante per te in tutto questo percorso che si chiama tiziana ma tiziana è la mia compagna quindi potete capire come ha vissuto tutto questo dall'andare a visionare la prima struttura e con le mie idee delle volte si scontra delle volte le sposa e molte volte ha anche paura perché quando dico mi è venuta un'idea un attimo trema perché sa che sono uno che ha sempre voglia di fare e quindi siamo partiti con questo percorso insieme percorso che non è stato facile non è stato facile da un punto di vista progettuale non è stato facile da un punto di vista personale perché sai interfacciarsi con una persona sul lavoro e poi dentro casa e sempre magari sulle stesse problematiche perché poi oggi sembra tutto bello ma di passaggi difficili ci sono stati è stato sicuramente una bella spalla in certi momenti di supporto e in centi in certi momenti magari di sconforto però tutto sommato insieme siamo arrivati oggi qua e quindi devo ringraziare anche lei certamente perché sicuramente no si dice sempre che le cose funzionano quando funzionano nell'insieme anche proprio della vita privata e della vita poi personale proprio questo uno dei segreti sanità del futuro siamo in un luogo che veramente si può dire impersonifica la sanità del futuro perché qui in questi in questo luogo tu hai creato tutto ma e quindi la sanità del futuro secondo te la vogliamo coniugare in maniera proprio più precisa cosa significa ma la sanità del futuro secondo me significa oggi poter creare un percorso completo al paziente che parte da quando vediamo il paziente la prima volta come ho detto prima da ascoltare il paziente e di cercare di riuscire a capire la strada da far fare al paziente questo naturalmente è venuta fuori da da un'esperienza come dicevi prima tu trentennale e la mia fortuna è stata che la mia esperienza lavorativa è nata da subito nel nell'ambito sportivo professionistico e da lì io ho avuto la fortuna subito di poter lavorare con altre figure professionali e non e che però mi hanno insegnato un lavoro di squadra quindi ho sempre lavorato dal primo giorno della della mia professione con altre figure come potevano essere il medico dello sport il preparatore atletico l'allenatore il dirigente che magari voleva dire la sua quindi tante figure che mi hanno fatto crescere mi hanno fatto crescere in due modi uno e nel gestione del paziente la gestione della persona e altro e da un'altra parte da un punto di vista professionale perché sai tu vedi cosa fa il medico sull'atleta cosa preparatore atletico come si interfaccia l'allenatore e quindi capisci sia che l'importanza di altre metodologie di lavoro su quella patologia e capisci in parte anche una parte della psicologia sulla persona perché in questa esperienza che ho fatto decennale decennale nell'ambito del basket e poi ho proseguito anche in altri ambiti sportivi ho capito anche come alcuni allenatori avevano più risultato di altri anche con le stesse capacità tecnico qualcuno inferiore ma perché avevano miglior interpretazione da un punto di vista gestionale della persona e della squadra e quindi tutto questo mi ha mi ha fatto crescere e mi ha fatto piano piano passare da uno studio di 20 metri quadri al vecchio fisioradi che era una struttura più piccola di questa ma che a un certo punto negli anni ho capito che serviva sempre di più trattare la persona a 360 gradi e quindi è partito questo progetto questo sogno di realizzare un qualcosa dove il paziente quando entra può trovare tutto qua e dove a parte noi fisioterapisti ma dentro ci sono medici specialistici oggi c'è la diagnostica e quindi riuscire a dargli un servizio completo è anche un servizio in un tempo breve perché poi molte volte la problematica dei pazienti è proprio questo che per chiudere il cerchio ci impiegano tanto tempo quindi noi ci ritroviamo a trattare pazienti che magari gli ci sono voluti mesi per chiudere tutto il loro percorso diagnostico perché per fare un accertamento ci volevano 20 giorni per far con l'altro se ne volevano due mesi e quindi il paziente quando arriva da noi purtroppo da un punto di vista clinico è peggiorato solo perché è passato il tempo quindi è questo che vogliamo cercare di dare vogliamo cercare di dare una tempestività nell'immediato quindi noi vogliamo cercare di arrivare a creare dei protocolli dei percorsi che siano completi a questo punto far risparmiare tempo e denaro al paziente certo hai toccato un punto davvero importante quella della interdisciplinarità delle professioni sanitarie e quando parli di sanità del futuro è proprio questo perché i compartimenti stagni funzionano poco invece funzionano i vasi comunicanti e proprio il passarsi le conoscenze e poi la tempestività è alla base di qualunque cura di qualunque terapia questo lo sappiamo perfettamente certo l'hai già detto in parte riferendoti a tua moglie sicuramente comunque il percorso è stato un percorso lungo ricco di soddisfazioni ma anche di difficoltà perché non è che le cose nascono dall'oggi al domani no le difficoltà ci sono sempre ma io dico sempre che le difficoltà dobbiamo essere bravi a trasformarle in opportunità le difficoltà sono state dall'inizio da quando ho deciso di intraprendere questo lavoro ero giovane avevo subito un infortunio e l'infortunio mi ha aperto il mondo della fisioterapia in modo diciamo negativo perché all'epoca mi ero fatto male avevo fatto una frattura della rotola e a pesaro facevo fatica a trovare un fisioterapista e questa cosa di riabilitarmi un po' con colui che ho trovato che mi ha dato una mano un po' perché ero già uno sportivo andavo in palestra andavo in bicicletta quindi un po' chi mi ha aiutato un po' un po' il fai da te e mi ha ispirato verso questa strada con difficoltà perché quando ho detto questa cosa a casa il mio babbo all'epoca aveva un'attività quindi figlio grande maschio mi vedeva con lui insomma e c'è stato un po' da lottare e poi sono arrivato il giorno che ho detto sono entrato a fisioterapia e ha dovuto alzarle mai quindi come vedete proprio dall'inizio poi le difficoltà vanno avanti ci sono nel tempo come dicevo le difficoltà ci sono state all'inizio entrare in un mondo sportivo professionistico da subito perché sai appena diplomato in esperto in mezzo a vari professionisti però questa difficoltà poi è stata un'opportunità per farmi crescere magari più velocemente sia perché ho lavorato con altre figure ma anche perché a quel punto ho dovuto continuare sempre a studiare anzi a studiare in continuazione per cercare di non essere poi soppresso da altre persone attorno superato diciamo sì anche ma proprio messo da parte perché sai poi dicono non è preparato invece se tu facevi vedere che eri sempre lì al passo anzi poi alla fine ti consideravano anche di più di quello che eri e quindi come dico le difficoltà ci sono state poi quando ho deciso di aprire Fisioradi perché sai aprire una struttura una piscina riabilitativa a Pesaro non esisteva anche a casa sai lasciare all'epoca uno stipendio perché ero con la Scavolini Basket e quindi avevo uno stipendio fisso avevo già il mio studiolo sai genitori ma perché lasci lo stipendio mia mamma poveretta molto preoccupata e quindi anche questo affrontare di nuovo difficoltà e quindi però se li affronti secondo me con logica con passione con voglia di fare secondo me come ho già detto diventano delle opportunità sono andato avanti e piano piano le altre difficoltà sono state anche quando ho iniziato a mettere dentro altri professionisti nel centro perché sai non ti conoscono magari vengono a parlare non hanno fiducia che tu possa inserirli nel tuo centro e invece poi tutti i professionisti che oggi ci sono sono contenti sono entusiasti di questa nuova struttura e addirittura possiamo dire che i nuovi professionisti sono arrivati i nuovi medici grazie ad altri medici che collaborano da noi da diverso tempo una soddisfazione grande dopo tutte queste difficoltà che abbiamo avuto all'inizio con i progetti con le autorizzazioni è stata quella di realizzare questa struttura in un tempo veramente breve insomma anche lì quando siamo partiti ci davano dei matti e però anche qui ci siamo riusciti adesso quello che dobbiamo riuscire è veramente far passare il messaggio di questa struttura e questa struttura deve andare avanti sempre nel migliore dei modi e questo naturalmente posso dire Maurizio Radi la guida ma insieme a Maurizio Radi ci sono tante altre persone che lavorano con lui per fare in modo che questa struttura diventa veramente speriamo un fiore all'occhiello nella nostra città certo il lavoro di squadra è fondamentale, importantissimo hai utilizzato parole belle, passione, voglia di fare, voglia di realizzare l'avevi già detto prima di fondo c'è una grandissima però onestà, onestà intellettuale che ti porta proprio a fare di questa tua passione, di questo tuo lavoro una vera e propria mission sì, penso che l'onestà oggi come oggi sia una cosa fondamentale nel lavoro quando dicono, parlano di business, il business non viene se non c'è onestà onestà la dobbiamo guardare, è una parola importante l'onestà la dobbiamo avere con i nostri pazienti, la dobbiamo avere con i nostri collaboratori con i nostri dipendenti e l'onestà è anche quella di mettersi sempre in gioco e di capire che non possiamo mai essere arrivati io una sera, giorni scorsi ho fatto una riunione con tutti i miei staff e proprio siamo partiti su darci un voto noi con noi stessi e questo perché? perché noi dobbiamo capire che nel lavoro per crescere dobbiamo anche essere onesti di capire oggi dove siamo arrivati se io oggi so che non sono arrivato su una determinata cosa ho dei dubbi e devo essere onesto di dirlo al mio collaboratore o al mio titolare o io al mio dipendente o al mio consulente perché dobbiamo con l'onestà andare avanti e crescere tutti insieme oggi dobbiamo essere onesti prima con noi stessi e poi di conseguenza si apre il mondo con grande onestà ti dico che la Tlessidre è arrivata in fondo quindi il tempo a nostra disposizione è praticamente finito però volevo chiudere proprio con una domanda per capire adesso noi finiamo quest'intervista usciremo dal tuo studio e dopo Maurizio Radi cosa farà? Maurizio Radi dopo che vi ha salutato come dici tu passa di sopra, si cambia e poi rientra in questo studio in un'altra veste ma in quella veste che è sempre Maurizio Radi di 30 anni fa che da qui a fine giornata tratterà i suoi pazienti come ha sempre fatto in tutti questi anni quindi camice verde in pandan con gli occhiali per lavorare al meglio grazie Maurizio per questo quarto d'ora che ci hai concesso davvero buon lavoro grazie a voi per questa intervista grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti